Il pizzometro azzurro, la nuova gustosa rubrica per i lettori di Napoli Village. A cura di Emilia Sensale, con la partecipazione del noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo. Un saluto a tutti gli utenti di Napoli Village, siamo qui come sempre in compagnia di Gino Sorbillo, del noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, che questa volta in onore della vittoria del Napoli contro il Cesena, vittoria valida per il proseguo del Cammino degli Azzurri in Coppa Italia, ha voluto fare questa pizza particolarissima. Questa pizza che strappano davvero un sorriso a voi utenti che seguite il pizzometro di Gino Sorbillo, a tutti i tifosi azzurri e anche perché no, anche allo staff del club partenopeo che continua a dare tante soddisfazioni ai suoi supporti. Diamo ora la parola a Gino per capire il perché di questa scelta. A te la parola a Gino. Napoli Cesena 2-1, è stata una vittoria molto sofferta, ma gli azzurri anche questa volta hanno dimostrato la loro grande abilità. Da qui una pizza un po' ironica, una pizza pork, diciamo, ma non c'entra niente nel risultato, è solo per strappare un sorriso ai nostri cari seguaci che ci seguono e che vogliono, che Napoli voli sempre più in alto. Saluti da Napoli e dalla pizza pork. Grazie. Grazie. Grazie.